1.07, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale, il G7 in Puglia, prima giornata in primo piano. La Premier Meloni ha accolto a Borgo e Ignazia i sette grandi che hanno firmato il logo del Vertice e posato per la foto di famiglia. L'Ucraina è al centro dei colloqui con il Presidente Zelensky, accordo sugli asset russi, 50 miliardi di dollari di aiuti a Kiev e Zelensky in serata ha incontrato Biden. Tra i nodi resta però quello del riferimento all'aborto, domani la storica partecipazione del Papa che avrà dieci incontri bilaterali anche con Biden e Macron e stare stasera la cena offerta dal Presidente Mattarella. La cena di gala offerta da Sergio Mattarella al Castello Svevo di Brindisi chiude una prima giornata del G7 densa di risultati ma anche di polemiche. Il Brindisi del Capo dello Stato è un invito all'unità di fronte al riemergere di tensioni e rivalità e un auspicio di pace. Giorgia Meloni celebra il raggiungimento dell'accordo sugli aiuti all'Ucraina, accordo politico per un prestito da 50 miliardi di dollari garantito dagli asset sequestrate alla Russia dopo la sua aggressione. Volodymyr Zelensky sentitamente ringrazia e raddoppia con il Presidente americano Biden, firmo un accordo di sicurezza decennale in cui gli USA garantiscono a Kiev protezione e assistenza militare, un passo sulla strada dell'obiettivo finale, l'ingresso nella Nato. Aspettavamo queste risorse da tanto tempo, dice Zelensky nella conferenza stampa con Biden. Adesso potremmo continuare a difendere l'Ucraina e insieme la democrazia. Commentando i risultati delle elezioni europee dice non importa chi le vince, l'importante è che si mantenga l'unità e il sostegno a Kiev. Ma i postumi del voto europeo si riverberano anche in terra di Puglia con la polemica tra Italia e Francia sulla mancata menzione dell'aborto da garantire come diritto nella dichiarazione finale. Macron la voleva ancora più esplicita, l'Italia si è opposta e la parola non è nominata. Fonti di Palazzo Chigi hanno parlato di panna montata elettorale. Macron ha risposto per noi è un valore, dispiace che la vostra sensibilità sia diversa. Risultato palpabile la freddezza tra Macron e la Meloni alla cena. La seconda giornata del Vertice vedrà per la prima volta la partecipazione di un Papa. Bergoglio interverrà alla sessione sull'intelligenza artificiale, tema molto importante per la Chiesa per i suoi risvolti etici e sociali. Resta altissima la tensione alla Camera dopo la rissa scoppiata ieri durante l'esame del DDL sull'autonomia. Sanzionati gli 11 protagonisti della rissa, compreso l'aggredito e il pentastellato Donno. Entro il 18 giugno il primo si è ai testi su premierato e autonomia nel programma della maggioranza. A distanza di 24 ore dall'aggressione alla Camera, l'ufficio di Presidenza, dopo aver esaminato i filmati ed ascoltato i testimoni, eroga sanzioni contro i protagonisti dell'episodio, come comunica il Presidente Fontana. Per il deputato della Lega, Iessi, il massimo della misura, 15 giorni di sospensione da lavori parlamentari. Sette giorni per i deputati di Fratelli d'Italia, Mollicone, Cangiano e Amic, per il leghista Forgjuele e per il DEM Stumpo. Ma anche Donno, che si è avvicinato al ministro Calderoli con una bandiera, riceve una sanzione, quattro giorni di sospensione. Inoltre, sospesi per tre giorni il DEM Amendola e Candiani del Carroccio, due giorni per Scotto e Stefanazzi del PD. Iessi reagisce così. Accetto la sanzione, sancita la verità per una brutta giornata che ha avuto molti padri. Mollicone, rispetto la decisione sulle sanzioni perché è proporzionata a ciò che si vede dalle immagini, ovvero un semplice diverbio verbale con Donno. Candiani, sproporzionato il provvedimento contro di me, rispetto al provocatore Donno. Schlein, aggrediti sul stesso piano di aggressori, è molto grave. Conte, queste sanzioni sono un'appendice farsesca dei fatti di ieri. I membri dell'ufficio di presidenza del PD e AWS votano contro i provvedimenti e spiegano che l'ufficio non ha adottato nessun criterio di proporzionalità nel definire le giornate in interdizione dei deputati coinvolti. Ma tutta la giornata è attraversata da continue tensioni per i fatti di ieri. Le opposizioni unite non accettano il verbale dei lavori che registra quanto accaduto come disordine, non come aggressione, e accusano il centrodestra di squadrismo e di clima democratico violato. La maggioranza invece risponde parlando di provocazione da parte di Donno e agita il sospetto che sia stato alzato un polverone per roffuscare il G7 in Puglia. Il caos nella destra in vista delle elezioni in Francia. La nipote di Marine Le Pen, Marion Mareschal, ha annunciato che non si candiderà all'indomani della sua espulsione da parte del leader dell'estrema destra, Zemmour, mentre la sinistra si ricompatta. Sulla via verso le elezioni che dovrebbero portare al primo trionfo dell'estrema destra francese, è invece la sinistra a ritrovare compattezza. Nasce il nuovo Front Populaire che unisce il Partito Socialista, il Partito Comunista, gli Ecologisti e Verdi e la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. A tre settimane dal voto la destra si avvita invece in una crisi spettacolare nelle sue manifestazioni. I repubblicani neogollisti hanno espulso il presidente Eric Sioty per avere siglato un patto con Marine Le Pen andando contro tutto quello che il partito ha rappresentato per anni. Dietro la sua mossa, secondo Le Monde, ci sarebbe uno degli uomini più potenti di Francia, Vincent Bolloré, magnate di molte cose ma soprattutto per influenzare la politica dei media. Sioty, barricato nel suo ufficio, ha dichiarato illegittima la scelta del comitato politico del suo partito ed ha fatto ricorsa alla magistratura. Secondo fonti citate dall'agenzia France Press, il segretario destituito, per mostrare che nulla è cambiato, ha pranzato con il nuovo uomo forte di Rassemblement National, Jordan Bardella. A spaccarsi a metà anche il reconquête del polemista Zemmour che aveva attirato la nipote della Le Pen, Marion Maréchal, ora tornata tra le braccia della zia. Al centro, isolato e dei minimi storici di gradimento, il presidente Macron che punta ad essere il baluardo contro gli estremi di destra e di sinistra. Macron che dal G7 giustifica la sua decisione di sciogliere il Parlamento e andare al voto anticipato con la richiesta di un chiarimento ai francesi arrabbiati con lui. Abbiamo capito che sono stufi, le cose, dice, cambieranno. Per lo sport domani scattano gli europei di calcio in Germania, partita inaugurale fra i tedeschi e la Scozia e sabato esordio per l'Italia di Spalletti contro l'Albania, il servizio del nostro inviato. Prendete un portiere di alto censo come Donna Roma e per formare la nazionale a 48 ore dal debutto contro l'Albania aggiungete Scamacca sul quale riponiamo grandi speranze. Per la colonna vertebrale il regalo al CT sono i due Nicolò, Barella e Fagioli che hanno agitato i suoi pensieri negli ultimi giorni e ora tornano a disposizione nell'allenamento blindato. La rosa resta al completo. L'Italia appesa al loro recupero può sembrare eccessivo, però l'esperienza dell'interista come assaltatore e la carica dello giuventino in Nato come play sono un valore aggiunto nel mosaico del centrocampo. Adesso però Spalletti deve valutare gli eventuali rischi del loro impiego. Sono tante le opzioni per scegliere uomini e modulo, ma sulla terminale offensivo non ci sono dubbi. Nella terra dei centravanti che hanno scritto pagine di storia adesso ci affidiamo a Scamacca. 25 anni e una maturità raggiunta dopo troppi passaggi a vuoto per il carattere degli infortuni. Gianluca però non teme la responsabilità. La pressione ce l'hanno i giocatori forti, quindi se così è preferisco avere pressione tutti i giorni, nel senso è bello anche avere pressione e avere gli occhi addosso. Il suo finale di stagione con la Super Atalanta è stato poteroso e in un torneo come questo è importante essere pronti al momento che conta. Con la nazionale la sua produzione offensiva non è all'altezza dei bomber come Mbappé o Kane. Una rete in 16 partite. Spalletti l'ho lasciato fuori dalla tournée americana e lui ha capito la lezione. Sì, sì, è servito, è servito assolutamente. Mi ha mandato da un psicologo. Per il basket l'Olimpia Milano è campione d'Italia per la trentunesima volta. L'Armani ha vinto gara 4 dei playoff scudetto battendo la Virtus Bologna 85-73 e chiudendo la serie sul 3-1. Protagonista assoluto della serata è il montenegrino naturalizzato spagnolo Nicola Mirotic. L'ala di Milano ha realizzato 30 punti e conquistato 12 rimbalzi. Per l'Olimpia è il terzo scudetto consecutivo firmato da Ettore Messina. E oggi cerimonia al Quirinale per la consegna delle bandiere e gli alfieri azzurri per le Olimpiadi di Parigi. Vediamo. 329 più 1. A stasera sono 329 gli atleti italiani che hanno già ottenuto il passo olimpico in 30 discipline. Di poche ore fa l'ufficializzazione della rappresentanza del tennis con Sinnere Paolini a guidare la nazionale della racchetta. Ma in attesa della lista definitiva un nome è già sicuro a prescindere. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ormai è passato da autorità spettatrice a partecipante attivo della spedizione dopo il doppio bagno di folla che ha infranto il protocollo del Quirinale. Mai un nostro capo di Stato aveva seguito due giornate diverse di una singola manifestazione sportiva. E Mattarella anche oggi ha trasformato una cerimonia quanto mai ufficiale. La consegna del vessillo ai portabandiera olimpici Arianna Enrigue, Gianmarco Tamberi e a quelli paralimpici Ambra Sabatini e Luca Mazzone in un momento di autentica familiarità. Sospetto che Tamberi abbia sbagliato i primi salti a 2,29 per creare una suspense alla Hitchcock, ha scherzato il presidente. Ma c'è stato spazio anche per personalissime emozioni. Uno sbarbatissimo Tamberi ha ringraziato la moglie per averlo fatto diventare l'uomo che è. Arianna Enrigo, pur dall'alto di un curriculum sterminato, si è commossa rievocando le fatiche doppie di campionessa e mamma. Ed eccomi qui a rappresentare il mio paese e a giocarmi la mia quarta Olimpiade. Lacrime di commozioni in attesa di quelle di gioia. Il numero uno del CONI Malagò promette di superare il record di 40 medaglie di Tokyo sperando che l'azzurro possa essere simbolo di vittoria non solo sportiva. Il messaggio che voi lancerete con i vostri colleghi e colleghe degli altri paesi è un messaggio di convivenza, di amicizia, di collaborazione altrettanto importante. Grazie, auguri per Parigi. È tutto, grazie per essere stati con noi. Buonanotte.